Davide Durati, pronto riscatto del Chiasso, vittoria nel derby Io so che abbiamo un mister molto responsabile, ha optato per questi cambi e il campo gli ha dato ragione Il tuo parere sulla prova di Guatteli? Guatteli ha fatto un ottimo esordio, si è dimostrato un ottimo portiere e quindi se la gioca anche lui Probabilmente vince in un derby, dà una carica particolare anche per Vaduzi? Sì, dà una carica particolare anche per Vaduzi, ma ora l'errore più grande che potremmo commettere è quello di pensare di essere già arrivati Dobbiamo metterci bene nella testa che fino all'ultima partita ci sarà da soffrire se vogliamo salvarci